Si consolida un lavoro di squadra che si sta già facendo per unire queste due baie tanto simili e tanto diverse da una parte all'altra del mondo. Unirle sulle tecnologie, sull'innovazione, sulla creatività, sull'impresa, su una visione ecocompatibile delle comunità. Del resto questi legami si sono fortemente rinsaldati anche con la visita che ho fatto a San Francisco qualche giorno fa, sulla quale stiamo anche lavorando in vista dell'evento importante di fino a ottobre del concerto del Requiem di Verdi. Quindi è un momento importante, tante imprese coinvolte, il comune di Napoli, la regione Campania. Ancora di più vogliamo dimostrare che Napoli ha una visione internazionale come la Campania, vogliamo puntare sul turismo, sulla cultura, sulle innovazioni, sulle imprese. Questo rapporto straordinario con la Silicon Valley, dove c'è la proiezione futura più forte delle nuove tecnologie, da Google a Twitter e altre, così come Slow Food, Napa Valley, una concezione importante della terra che coincide con la nostra, il chilometro zero, rifiuti zero. Quindi un legame che a me interessa molto come sindaco e come cittadino napoletano. La strategia che l'assessorato alla ricerca e all'università, l'assessorato all'attività produttiva, ma direi tutta la politica dell'Aggiunta regionale, è spingere moltissimo su questo versante. Convinti come siamo che da un lato la creazione di nuove imprese è uno dei tanti canali per produrre occupazione. Non è l'unico canale, non è che da solo risolve, però dà un grosso aiuto. Quindi produzione, creazione di nuove imprese. Creare nuove imprese significa puntare sull'innovazione. È un bel momento perché ovviamente Silicon Valley ha mostrato nel passato di avere capacità di innovare, però questa innovazione viene da persone, tante di queste persone sono italo-americane che girano lì in America, ossia i giovani che hanno fatto un piccolo, un breve soggiorno in Silicon Valley, in California, a vicino a San Francisco, per promuovere nuove idee, dimostrare che loro sono capaci di innovare. Mi pare che quello che ha detto il sindaco per quanto riguarda l'energia che hanno in Napoletano, le iniziative che hanno, si trova un momento di utilizzare bene queste iniziative, questa energia, nella innovazione di prodotti, processi e addirittura anche creare nuovi tipi di business.